Nella mia vita sono abituato sempre a metterci la faccia, quindi è normale che è venuto il direttore e mi ha chiesto di uscire ed è giusto che io uscissi. Sono il responsabile, poi a prescindere dall'antamento della gara, la qualità del gioco, se si meritava o non si meritava, si è perso. In una partita dove ci tenevano tutti, i tifosi, uno spettacolo oggi vedere la curva così piena, abbiamo perso, non abbiamo scusanti, in questo momento si imputa scarso impegno, tante situazioni, adesso non mi voglio soffermare, non mi va nemmeno di parlare della partita, dell'andamento, abbiamo perso ed era un derby che noi dovevamo vincere. Dovevamo vincere per la società, per la gente, per tutti e quindi abbiamo fallito ed ognuno di noi si prende le responsabilità. Io in primis, nella maniera più assoluta, intanto dobbiamo blindare la salvezza perché penso che mancano ancora due punti e poi i giocatori prenderanno le loro responsabilità.